Quindi, scusami, perché è bellissimo, importantissimo lo che stai spiegando, c'è questo mare di idrogeno e di elio, per delle leggi, c'era già la legge di gravità, hai detto. Le leggi, certo, le leggi, questo è un altro tema incredibile. Tiriamolo fuori. Cosa sono le leggi di natura? Che natura hanno le leggi di natura? Cioè, chi glielo dice all'idrogeno di comportarsi in un certo modo, alla gravità di comportarsi in un altro modo? E questa è una cosa profonda e misteriosa. Dieci minuti facciamo un intervallo, tranquilli.